Io ci tengo in quanto, come dire, non è per me stessa, ma ci tengo consapevole dell'utilità di chi ascolta queste cose e che vuole riflettere su queste cose, ecco, perché è una realtà di vita. Vedi che io non esagero, anzi, certi episodi che sono eclatanti me li sono, come dire, non li presento per quello che sono, perché per me è importante la riflessione su questa realtà. È il Novecento, è come abbiamo vissuto il Novecento.